la tua fidanzata e c'è una cosa che però non ti ho mai detto in realtà è da un mese è da un mese che tutte le volte che siamo incontrate io nel se tu ti ricordi la mattina quando ti svegliavi non ti ricordavi niente questo perché io nel nell'acqua nella coca cola ci inserivo delle sostanze particolari e poi di notte ti scopavo di conseguenza e di conseguenza o il cazzo non vogliamo il pene per la figo il cazzo me lo ricordo bene la figa lo so me lo ricordo benissimo c'è perché c'è se una ragazza anche in realtà la figa vuoi vederla c'è che cazzo ridi ma c'era cogliona ora sei con me non vai più nella tua live basta come ma mi aspetta no no la tua live adesso sta no basta no stai con me aspetta un po' più avanti che c'ho le cuffie che c'hanno il cavo corto sempre il cazzo degli haters cristo non devi farti figa davanti la mia causa perché si vede meglio 2.000 euro di una donna se si vede male rosicavo cosa devo dire ragazzi sì o no devo dire sì o no ragazzi peccatore ci scippa detto avevi cipo troppo tardi le mani va bene sì come una cogliona raga sì e allora non devi alzarmi le mani no dai stasera mi asci le tette ti esco le mie bene ti esco le mie ti esco le mie